Bella a tutti ragazzi, sono Archigamer e non so perchè guardo lo schermo e non guardo la comunque oggi andiamo a vedere le evoluzioni degli starter perchè? perchè ho ottenuto troppi spoiler sul gioco quindi ora è inutile tenerci nascosto tutto odio quando la gente mi spoilerà le cose davvero lo odio quindi partiamo e vediamo un pochino che cazzo ci riserva io voglio vedere l'evoluzione di Popplio perchè se l'hanno fatta uno schifo come mi hanno detto io mi uccido veramente quindi vediamo picca ok abbiamo Rowlet che si evolve in Dartrix no raga che figata no raga pure il ciuffo no no che figata raga no 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 è una cosa bellissima no oddio no quanto è vero oddio mi dipingo il ciuffo di verde è una cosa fighissima no hanno fatto proprio bene raga no è bellissimo erba volante e erba aiuto no come se l'ha giusta no 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 quanto è bellino no raga no è una cosa bellissima è bellissimo vabbè Litten vediamo Litten come l'hanno fatto se è vero mi hanno detto che lo fanno in due zampe se è vero io mi suicidio Torracat Torracat no che figata no raga no no non potete capire raga spara il fuoco dal campanello no per un dentino che gli sfonda fuori no raga è impressionante no raga è bellissimo Torracat è stupendo raga però ho paura a vedere Popplio dai mi hanno detto che faceva schifo ti prego ti prego Brion nooo perché perché è femminile ma perché è femmina le trecce che cazzo è qua che cos'è una gonna questa no raga uffa volevo Popplio davvero lo volevo Popplio però dopo che vedo queste cose io non voglio no perché hai occhi femminili con le ciglia poi ha queste tipo trecce in testa che cazzo il naso di merda ma che cos'è la gonna no raga è brutto no questo va più per le femmine che giocano a sto gioco no raga detto questo la mia scelta non va più su Popplio dopo aver visto questo ci basiamo sulla terza va aspettiamo di vedere la terza ma sicuramente non sarà questa no raga lo sbaglio più grande della loro vita anche se per una cosa hanno fatto bene che hanno fatto un Popplio cioè un Popplio più in versione femminile così che le ragazze possono scegliere lui però no raga è abbastanza bruttino cioè non si può proprio vedere no raga cioè non è che è brutto però no non ci sta per quelli che lo volevano all'inizio non è una cosa cioè non è proprio l'evoluzione che volevo che speravo che merda raga no questo non lo voglio sapere non me l'hanno detto allora mi hanno detto che il trailer riguardava altre cose però io ero interessato solo sulle evoluzioni quindi raga questo video si conclude qui non vi dico nulla sulla mia scelta perché sono ancora indeciso devo solo vedere le terze evoluzioni e niente più noi ragazzi ci salutiamo grazie per la visita ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti